Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, veicolo fermo o in avalia tra Valdarne e Arezzo in direzione sud. In A11 coda per traffico tra Pistoia e il Bivio con l'A1 e coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola, tutto verso Firenze. I cipili restano 5 km di coda per incidente tra Montelupo e La Strassigna, ancora una volta verso il capoluogo. Per il traffico urbano di Firenze tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in via Vittorio Emanuele II all'altezza di via Celso. I lavori vanno avanti fino al 6 novembre e sono articolati in fasi, sono previsti restringimenti e provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.